Musica Buonasera, buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento di un sindaco a bordo. Oggi siamo nella palestra municipale del Corsalone, nel comune di Chiusi della Verna e come sempre abbiamo con noi il primo cittadino, il sindaco, Giampaolo Tellini. Buonasera e grazie per essere qui con noi. Al suo fianco abbiamo Sebastian Muscovic della cooperativa Cantieri Belli. Grazie per essere qui con noi questa sera. Al suo fianco abbiamo il rappresentante della Proloco di Chiusi della Verna, Dante Frappi. Buonasera e grazie per essere qui con noi. Ultimo e naturalmente non per importanza abbiamo Paolo Volpi della Scuderia Etruria Racing. Grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti. Naturalmente abbiamo un pubblico qui con noi che sta seguendo questa trasmissione. Nel corso della puntata potrà fare anche delle domande ai nostri ospiti che abbiamo qui con noi e Marco Alfonsi appunto ci guiderà nel corso di questa puntata. Buonasera a tutti. Vi ricordo che la trasmissione può essere seguita sul canale 85 del Digitale Terrestre oppure attraverso l'indirizzo www.tsdtv.it slash live. Ovviamente in streaming. Vi ricordo inoltre che il pubblico da casa potrà rivolgere le domande ai nostri ospiti attraverso le pagine social Facebook e Twitter e l'indirizzo email sindacoabordo.tsdtv.it Io vi ricordo che siamo in diretta anche su Facebook nel profilo di TSD, la nostra emittente e vi ricordo che un sindaco a bordo è un ciclo di trasmissioni che è articolato in 20 puntate dedicata ciascuna di queste a un comune della provincia di Arezzo e di Siena e questo ciclo di trasmissioni è articolato in due momenti. Il giovedì sera è in diretta dal territorio in ciascuno di questi 20 comuni come stiamo facendo adesso dalla palestra del comune del corsalone del comune di Chiusi della Verna e il sabato sera alle 21.25 con un reportage che viene realizzato a bordo di un minivan ciascuna di queste 20 puntate con il sindaco di ciascuno di questi 20 comuni che ci accompagna a scoprire l'eccellenza in ambito storico, artistico, culturale, imprenditoriale, sociale e che più ne ha più ne metta. naturalmente sabato quindi sarà possibile vedere il sindaco di Chiusi della Verna Gian Paolo Tellini che ci accompagna appunto a scoprire questo bellissimo territorio. Iniziamo a scoprirlo anche noi con un breve contributo video che è stato realizzato dal nostro Michele Francalanci. Ciao! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Inizierei proprio dal sindaco che guida questa comunità, quella di Chiusi della Verna, chiedendole questo. Che cosa significa, cosa rappresenta per lei guidare una comunità che ha il suo nome così conosciuto in tutto il mondo, visto che appunto ha nel suo nome quello del santuario di La Verna, dove San Francesco appunto ha ricevuto le stimmate. Ma cosa rappresenta per me? Innanzitutto è una grossa responsabilità prendere oggi come oggi portare avanti un'amministrazione comunale. Credo che ci renda sempre più esposti purtroppo anche a tante cose che diciamo ai cambiamenti, alle situazioni che in generale stanno succedendo intorno a noi. Per quanto riguarda il comune di Saverna, credo che il nostro comune, diciamo avendo nel nostro territorio il santuario, è uno dei comuni più importanti non solo a livello nazionale ma a livello internazionale, proprio soprattutto perché abbiamo il santuario della Verna. Dante Frappi, lei appunto rappresenta la Proloco, voi come cercate di valorizzare e far conoscere sempre di più appunto questo territorio? Cerchiamo di organizzare delle iniziative carattere culturale tramite la Proloco, ora stiamo organizzando Sacra del Tartufo come iniziative, ci sarà anche una mostra di pittura che verrà allestita qui nella Proloco grazie al sindaco che ci dà una mano per organizzarla che inizierà dal 18 di giugno fino all'11 di settembre. Questa mostra sarà fatta di scultori, pittori e coordinata da critico Michele Ruffredi e pittore di Arezzo Caporali che ci dà una mano. Qui con iniziative di carattere culturali e sociali in vari ambiti. Abbiamo qui anche un rappresentante della Scuderia Etruria Racing, una realtà che non opera solamente all'interno di questo territorio ma come vedremo più avanti nel corso della puntata c'è un bel progetto che vi interesserà. Io però prima di tutto chiederei a lei un po' di presentare la vostra realtà, di cosa si occupa? A Scuderia Etruria Racing si occupa di organizzazioni e di manifestazioni sportive naturalmente con lo scopo di far conoscere anche il nostro territorio e diciamo che nell'arco degli anni ormai noi organizziamo il Re del Casentino che è la 36esima edizione quindi sono 36 anni e più che organizziamo questo tipo di manifestazioni che ha portato da pochi iscritti alle prime edizioni fino al massimo delle iscrizioni che è possibile accettare per cui credo che sia un'iniziativa molto importante. Ultimamente poi ci sono state delle collaborazioni con la Minropa Cup che è un'organizzazione internazionale e porta tutti gli anni qui una trentina di equipaggi stranieri provenienti da tutte le parti d'Europa. Anche questo vuole essere un motivo per cercare di far conoscere meglio il Casentino tra l'altro noi collaboriamo insieme alla Scuderia Etruria Cooperativa che organizza in prima persona i rally però credo che occupiamo una parte del territorio religioso di La Verna che è veramente importante tra l'altro c'è una prova speciale proprio sulle strade che vanno a La Verna, da Bibiana verso La Verna e anche nella Valle Santa. Credo che sia un modo proprio per far conoscere queste zone e dobbiamo dire che ci siamo anche riusciti perché vediamo tante volte tanti equipaggi tante persone che poi ritornano nelle nostre zone a trascorrere le vacanze, a trascorrere le vacanze estive oppure quelle natalizie quindi questo è direi un obiettivo raggiunto che ci eravamo proposti e che sta andando avanti. Speriamo di continuare ad andare in questa direzione ma non è soltanto questa iniziativa qui che la Scuderia Etruria Racing collabora con l'altra scuderia per il rally del Casentino ma organizziamo anche il rally delle vallate a retine che occupa un po' tutte le vallate della provincia ed è riservata da autostoriche oltre questo poi facciamo delle iniziative diverse proprio dall'organizzazione di gare vere e proprie che sono appunto Casentino e Motion che si terrà i primi di giugno ed è un concorso dinamico riservato a vetture storiche e da competizione e poi facciamo donne motoriche riservato anche questo all'esposizione di auto nell'ambito del concorso di Miss Italia e partecipiamo poi alle fiere, alle mostre con vetture di ogni tipo e tra l'altro proprio attraverso una di queste iniziative che il Sindaco ha potuto constatare con mano durante la fiera del Corsalone proprio che avevamo allestito un minicircuito per minicarte riservato esclusivamente ai bambini che è rimasto un po' colpito e da qui è nata poi l'idea di andare avanti su un progetto che appunto poi vi spiegherò. Sebastia Muscovic, lei non è originario di questo territorio, vive in Valle Santa che è una zona particolare insomma di questo comune ci può spiegare anche che cosa rappresenta per lei vivere in questa porzione di territorio come è nata anche questa scelta di trasferirsi e di venire ad abitare qua. Io arrivo in Valle Santa nel novembre 2013 interessato e attratto dalla nascita o comunque dall'idea è il progetto della realizzazione di un villaggio ecologico nella località di Corezzo. Ci arrivo tramite amici alla fine in realtà di un percorso iniziato diversi anni prima a Firenze di fatto di riflessioni sullo stile di vita, i valori da poter offrire ai miei figli all'interno dell'ambito cittadino, la difficoltà del vivere il contatto con la natura, la difficoltà di avere un lavoro continuativo e tutta una serie di criticità diciamo oggi ben consolidate per quella che è la mia generazione. Quindi arrivo in Valle Santa conoscendo questo progetto e in realtà conosco contemporaneamente una realtà assolutamente variopinta e eterogenea costituita da tantissime famiglie, persone venute da fuori attratte dalla natura, attratte appunto da una spinta sociale, culturale differente, un po' da quella dei modelli dominanti e anche fortemente attratta da questo progetto di villaggio ecologico che oggi sembra che stia prendendo piede e racchiude cinque famiglie, diciamo delle otto a cui è possibile la realizzazione di questa abitazione all'interno del territorio di Corezzo. Lo ricordo anche per chi ci sta guardando da casa, la Valle Santa è questa porzione di territorio che collega due importanti, un monastero e un santuario, quello di Laverna che è appunto all'interno di questo comune e quello di Chiusi della Verna con quello di Camaldoli che invece si trova all'interno del comune di Poppi. Abbiamo solamente iniziato a conoscere questo territorio direi di partire dal pezzo forte, ovvero da quello del santuario. Andiamo a vedere un primo stralcio del reportage che abbiamo realizzato con il sindaco Giampaolo Tellini proprio all'interno del santuario di Laverna. Se Assisi ha dato i Natali a San Francesco, Laverna è un po' il culmine spirituale. Il suo incontro con il Serafino Lato, il dono delle stimmate, rappresentano proprio il vertice del suo cammino umano su questa terra. Qui ha ricevuto le stimmate, quindi c'è anche una cappella che forse è il punto da cui poi è nato tutto il santuario. Sì, la chiesa nella quale ci troviamo è stata costruita precedentemente, in parte la parte più piccola che adesso è alle nostre spalle, diciamo così, la vista anche San Francesco. Nel 1253 sul luogo delle stimmate, quindi 30 anni dopo l'evento delle stimmate, fu costruita quella chiesa, che è chiaramente il cuore di questo santuario. Sempre all'interno di questa cappella, lo vediamo alle sue spalle, ci sono delle opere importanti, ma all'interno del santuario ce ne sono altre, delle robbiane. Come mai questo luogo è così ricco di opere di questo tipo? Diciamo che è ricco di queste opere per un disagio di questa montagna. La povertà degli intonaci, freddo, portarono a che gli affreschi, che anche questa cappella conteneva ed era rivestita, erano affreschite a Deogaddi, il discepolo di Giotto. Ecco, per questa povertà di intonaci, appunto per l'umidità, si portò nella metà del 1400 la necessità di avere altre opere che non si deteriorassero. Nel frattempo qui a Laverna erano subentrati i frati dell'osservanza, una riforma all'interno dell'ordine, con una forse maggior conoscenza e possibilità, e quindi furono commissionate le robbiane, non tutte insieme, un po' alla volta, creando un circuito di catechesi visiva. Ecco, una catechesi visiva, qual è il messaggio catechetico che ne è contenuto al suo interno? Nella fattispecie questa, Cristo per noi nasce, Cristo per noi muore. Il primo messaggio è questo, un Dio che ci è venuto incontro, ma due esperienze spirituali anche di San Francesco, perché nel 223 inventa il presepe e nel 224 rivive la passione. Ma sarebbe poco, non... sì, diciamo così, sarebbe poco considerare solo questi due eventi, se non una partecipazione diretta della persona. Ecco perché attraverso questa porta si entra dal sapere chi è Cristo al farne esperienza, quindi l'assemblea liturgica, e corona il cammino spirituale, la salita di Maria al cielo, l'assunzione di Maria, immagine e prefigurazione di un compimento di cammino di ogni cristiano. Qual è il messaggio di San Francesco, a suo modo di vedere, più attuale al giorno d'oggi? Anche il Papa ha scelto di chiamarsi Papa Francesco, la prima volta nella storia. Sono alcuni gli aspetti della vita di San Francesco che oggi sono imitabili, ma sono anche condivisibili. Primo, il mettersi in discussione di fronte al mondo, non una critica distruttiva, ma positiva. Potremmo dire che San Francesco, trovandosi di fronte alle difficoltà dei suoi tempi, ha detto, io per amor di Dio comincio. Secondo aspetto è la sua comunionalità con la creazione. Chiama fratello sole, sorella luna, sente la madre terra, ma perché individua in tutti l'impronta del creatore. E credo imitabile ancora di più è questo suo desiderio di far sì che la sua vita diventi un Vangelo vivente. non ha forse predicato tanto a parole, forse tanto con la vita. È l'esempio. E credo l'esempio sia difficilmente contestabile. Le parole alle volte possono non trovarci d'accordo, ma il ben agire, l'agire bene, non può che spingere un cuore alla sequela. Il santuario di Laverna si trova in un posto anche un po' difficile da raggiungere, nonostante è stato fondato 800 anni fa, immaginiamo come lo fosse allora, ma già anche oggi lo è tuttora difficilmente raggiungibile. Una condizione che ha impedito a due papi, nell'arco di 20 anni circa, di raggiungere questo santuario. Cosa hanno significato per voi queste due visite, quella di Giovanni Paolo II nel 1993 e quella di Benedetto XVI non riuscita nel 2012? La visita del Papa, potremmo dire che questa è un po' la visita della Chiesa. Quindi facendo parte a pieno diritto, ma anche con piena volontà della Chiesa, accogliere qui il Papa vuol dire avere il rappresentante terreno unico dell'ecclesialità e quindi della cattolicità della Chiesa. La mancata visita di Benedetto XVI è stata vissuta con un po' di fatica. Io ero qui, ero novizio? No novizio, ero diacono. E avrei dovuto quindi essere davanti al Papa a portare la reliquia del sangue. Quindi creò un po' di fatica, anche proprio di delusione personale. Però poi sapemmo quanto il Papa ci teneva e quanto aveva sentito lo smacco, diciamo, di non essere potuto salire. E infatti si fece molto presente con la sua vicinanza. Poi non so se lei ha partecipato anche all'ingresso dall'inizio del pontificato di Papa Francesco in Piazza San Pietro. Lui volle proprio la vostra. E a quel momento come l'avete vissuto? È stato particolare perché abbiamo ricevuto la notizia della venuta elezione proprio in questa Chiesa. Stavamo recitando Vespro quando abbiamo sentito suonare le campane a distesa perché un nostro confratello, che non era in convento, era fuori, rientrando portò la notizia. Quindi ci colse a tutti di sorpresa. E abbiamo partecipato proprio all'ingresso, alla presa di guida del Papa il 19 di marzo. Su queste immagini che vedevamo, che venivano dal santuario di Laverna, noi torniamo adesso in diretta dalla palestra municipale del Corsalone, nel comune di Chiusi della Verna. Abbiamo visto appunto le immagini di quella giornata del 13 maggio del 2012. Anche lei stava aspettando Benedetto XVI, non era sindaco allora, era assessore se non sbaglio. Sì, ero vice sindaco, assessore alle Repubbici. Tra l'altro in quelle settimane seguì abbastanza da vicino, soprattutto anche i lavori e la preparazione, per la visita che poi purtroppo del Papa non è avvenuta per via del tempo, che poi non è possibile che l'elicottero potesse atterrare. Quali sono anche le emozioni, il ricordo legato a quel momento? Il ricordo più, l'emozione era una cosa, credo, che chiunque abbia vissuta in quella giornata, è stata un'emozione, diciamo, parecchio, diciamo, sentita. L'altra cosa che mi ricordo parecchio, che è bene, che si tornò molli come... è fatto il bagno nel fiume, insomma. Infatti l'abbiamo visto anche dalle immagini il tempo che c'era. Lei sta promuovendo all'interno del suo comune, ma non solo, in tante anche altre realtà limitrofe, i cammini legati a San Francesco, questi percorsi sulle strade che lui ha percorso, che naturalmente, anche se è passato in molti posti diversi, da La Verna c'è passato sicuramente. In questo senso, anche in un'ottica di promozione turistica, di turismo religioso, che cosa state cercando di fare? Allora, innanzitutto, diciamo che due settimane fa abbiamo firmato un protocollo di intesa tra i comuni, che per Chiuse La Verna c'ero io, proprio per il percorso del cammino, abbiamo firmato quindi in questa associazione che è stata fatta ultimamente, e che riguarda il cammino di Francesco da Assisi a La Verna, che tra l'altro è una di quelle, diciamo, iniziative, soprattutto sui cammini di Francesco, che avrà nei prossimi mesi, nei prossimi anni, un'importanza non di poco conto per il nostro territorio. E quella del turismo legato appunto alla mobilità dolce è un settore che si sta espandendo molto. Tra l'altro c'è anche il progetto legato alla ciclopista dell'Arno, con tutte altre piste ciclabili ad esso collegato. Dalla Valle Santa, per esempio, passava anche la via Romea, la via Romea Major, con le iniziative che state promuovendo, soprattutto a Corezzo, con il Mercatale, ci sono anche iniziative di conoscenza un po' anche naturalistica, con dei percorsi appunto a piedi fatti nel territorio. Come nascono queste iniziative che state portando avanti? Ma diciamo anche questa è una, diciamo, delle ultime iniziative di questi ultimi anni, che veramente si sta sviluppando sempre più nel territorio del nostro comune e riguarda in particolare in questo, diciamo, parte territorio che è la Valle Santa. E non a caso anche lì, diciamo, in questi ultimi anni abbiamo, diciamo, anche un'amministrazione investito delle risorse importanti, proprio perché vogliamo e dobbiamo essere pronti a quello che sarà il turismo di domani e di oggi che sarà per il domani. Ecco, Sebastian, volevo chiederti questo. Cioè, legati anche alle iniziative quando per esempio c'è il Mercatale, voi fate proprio delle iniziative magari più orientate ai bambini, di conoscenza naturalistica del territorio circostante? Sì, allora, beh, il Mercatale nasce nel giugno 2015 per una forte collaborazione tra gli artigiani della Valle Santa e la Proloco di Corezzo ed è sostenuto poi dall'amministrazione di Chiusi della Verna, il Biodistretto del Casentino e l'Ecomuseo del Casentino. Nasce dal desiderio degli artigiani di far conoscere, oltre il proprio lavoro, anche lo stile di vita che c'è dietro e la scelta di vita che c'è dietro. Perché comunque, quando vai in un mercato esterno, porti i tuoi prodotti, la tua immagine, però una parte la lasci a casa, quindi il territorio che vivi e le scelte che hai fatto. Da qui l'idea di provare ad invertire la tendenza e quindi a far venire le persone nel nostro territorio, a farglielo conoscere e a far conoscere tanti aspetti di quella che è poi la vita delle persone che hanno scelto di cambiare più o meno radicalmente ed andare lì. Quindi per portare le persone a trascorrere una bella giornata in Valle Santa l'idea è stata quella di creare un pacchetto più ricco possibile con elementi per diverse fasce, quindi laboratori per bambini, le escursioni a piedi e in bicicletta, il pranzo con prodotti locali cucinato sul luogo e consumato negli spazi verdi intorno a Corezzo. Quindi tutti questi elementi ci permettono di farci conoscere molto di più e sembrano essere elementi che piacciono. Infatti le edizioni 2015 sono stati un po' un banco di prova. Quest'anno usciamo con cinque edizioni. La prima, che doveva essere aprile, è rimandata al 29 di maggio e poi a seguire saranno a luglio, poi in concomitanza con la Sagra del Tortello, poi ottobre e dicembre. Allora, noi abbiamo iniziato questo percorso per scoprire questo territorio, quello del comune di Chiusi della Verna. Siamo partiti dal santuario, c'è un gruppo storico che da qualche anno ha pensato di far riportare il suo splendore un corteggio, un corteggio storico che dal capoluogo, da Chiusi della Verna, arriva fino al santuario. Ricorda la donazione del monte che il conte Orlando Catani fece appunto al poverello d'Assisi. Allora vediamo insieme il prossimo contributo video. L'8 maggio 1213 il conte Orlando Catani presso il castello di Montefeltro, era ospita alla corte di Montefeltro, incontrò frate Francesco d'Assisi e parlando insieme a lui, voleva parlare dei fatti dell'anima sua, gli fece questa offerta del monte della Verna. L'anno dopo venne San Francesco a vedere e poi successivamente l'offerta fu accettata. E da allora questo paese, qui sotto c'era il castellare, la corte di questo grande contado, perché il conte Orlando Catani partiva dalla Marecchia, arrivava fino all'Arno. E qui Chiusi, si chiama così perché praticamente lui aveva il potere di chiudere la valle del Tevere da Casentino. Di qua c'è Casentino, di qua c'è la valle del Tevere. E Chiusi era qua. E qua c'era il conte Orlando Catani, questo potente signore che insomma, che aveva anche qualche nemico. Come avviene questa conversione del conte dopo l'incontro con San Francesco? Ma la conversione del conte avviene, probabilmente aveva qualche peccato nell'anima da farsi perdonare, è probabile, perché parlando con Francesco dopo averlo sentito nella predica che fece, a San Leo disse, a San Leo di Romagna, a San Leo, sì, a San Leo nel Monte Feltro, l'attuale San Leo disse che voleva parlare con Francesco dei fatti dell'anima sua. Evidentemente nell'anima sua qualcosina c'era da farsi perdonare. E parlarono a Palazzo Severini per due ore, dove ancora c'è una targa che ricorda questo avvenimento. E così, da quel momento iniziò la storia di Chiusi della Verna, di questo paese, cambiò. Ecco, il corteggio storico, come nasce? Il corteggio storico è nato da una intuizione negli anni 50 dell'allora consigliere comunale Enrico Montini, che aveva anche una delega alla cultura, aveva delle amicizie a Firenze, e di conseguenza organizzò una cosa, il primo approccio è una novità estemporanea di questa... non so neanche perché non ci sono documenti dove reperisse i costumi, ma riunì un gruppo di giovani di Chiusi che andavano a Laverna e in cui il sindaco di Chiusi, l'allora sindaco Donatello Detti di Valle Santa, fungeva nel ruolo del conte Orlando Catani. Anche oggi il sindaco riveste il ruolo del conte. Anche oggi il sindaco riveste il ruolo del conte, ma non nel corteggio storico moderno. In quel corteggio lì, ideato da Enrico Montini, parla degli anni 50, di questo corteggio c'è rimasta una documentazione fotografica che è in comune, ma non c'è altro. Questo come è nato negli anni 50? Questo è quanto è successo negli anni 50, il primo approccio. Poi nel 1982, durante l'ottavo centenario francescano, nel comitato, parlando di, così, delle celebrazioni per rievocare questo evento, l'ottavo centenario della nascita di San Francesco, il comune di Chiusi mise in piedi una serie di iniziative culturali abbastanza importanti e tra queste anche un corteggio storico, si parlò di un corteggio storico all'inizio, però non si sapeva come realizzarlo. Poi, con la compagnia del Cassero, la compagnia di Attrade del Cassero, che era una compagnia locale, ci si mise giù, io facevo parte di questa compagnia, e si buttò giù i testi di questo corteggio. Il che riprendeva un po' un dialogo di San Francesco, quello che legge del sindaco il 4 ottobre a Laverna, da lì si partì per ricostruire una sorta di sceneggiatura, usando, oltre ai figuranti che trovammo, reperimmo a quell'epoca, anche la compagnia di Attrade del Cassero, che faceva la rievocazione. Il tutto consisteva in questo qui, e che poi si è ripetuto. La corte partiva da qui, dal castello, si radunava tutto il personale qui davanti alla podesteria, che poi vedremo, scendeva fino in piazza dei caduti, in piazza dei caduti la corte a cavallo, con un drappello di soldati a piedi davanti, il capitano delle guardie, un drappello di soldati dietro, andava a fare, a rendere onore a Francesco D'Assisi, arrivato a Laverna. Noi torniamo in diretta dalla palestra municipale del Corsalone, nel comune di Chiusi della Verna. Vi ricordo che il contributo che abbiamo appena visto è solamente una parte del reportage che potrà essere visto in maniera integrale sabato sera alle 21.25, nelle immagini che scorrevano abbiamo avuto modo anche di vedere quanto repentinamente cambia il tempo. Siamo partiti col sole, poi è iniziato a piovere, al santuario, poi è tornato di nuovo il sole, a dimostrazione che non succede soltanto ai papi di avere delle sventure diciamo con il tempo. Abbiamo visto anche una parte della podesteria. La podesteria è dove ha vissuto una parte della sua vita Michelangelo Bonarroti. Infatti, suo padre, il podestà, passava una parte del suo tempo a Chiusi della Verna e un'altra parte a Caprese Michelangelo. Quindi, un'altra radice diciamo importante in questo territorio. Prima, le volevo chiedere, signor Sindaco, come si trova a fare il conte durante quando c'è il corteggio storico, il conte Catani? No, il conte non lo faccio io. Normalmente, c'è altre persone, anzi, tra l'altro, uno è qui, stasera anche con noi, a sedere nel pubblico che ha fatto il conte diverse volte, sì che ecco io, diciamo, sono al di fuori di quel ruolo lì. Senta, le volevo chiedere, quella del corteggio storico è una delle iniziative principali, no? Della Proloco, tra l'altro, è preceduta, nei giorni precedenti, da un'importante iniziativa di valorizzazione dei prodotti. Il 23 luglio viene fatto un percorso gastronomico a carattere mediovale nel paese vecchio di Chiusi e dopodiché vengono fatti tutti dei cibi inerenti un po' al medioevo con tutti con dei banchetti dei banchetti sono dei banchini che fanno vedere i mestieri di una volta come erano i mestieri di una volta e ci sono giocoglieri il mangiafuoco insomma, viene fatto tutto un percorso ricreato in mediovale per fare questo percorso così. Dopodiché il giorno dopo viene si svolge il corteggio storico e tutto è fatto dalle persone del paese tutti insieme cerchiamo di di ricreare insomma una bella atmosfera sì. Ma quella del medioevo è un po' un filo conduttore di varie iniziative per esempio portate avanti anche qualcosa legato all'uso dell'arco storico medievale il 5 di giugno viene fatto quest'anno c'è il terzo paglio arceristico di inerente chiamato il terzo paglio arceristico di San Francesco organizzato dal gruppo dei arcieri di San Francesco che ha chiusi a carattere nazionale una gara a carattere nazionale che viene svolta dentro nell'interno del paese sono delle postazioni dove tirano con l'arco e nell'arco di tutta la giornata viene svolta questa gara con questi gli arcieri all'incirca saranno 200-250 arcieri nello stesso tempo alla beccia nel paese che rimane sotto il santuario viene organizzato un mercatino delle pulci per vedere di attrarre un pochino più di gente che venga al paese come turismo abbiamo parlato di cibi medioevali lei Sebastiano anticipava qualcosa in merito al mercatale la filosofia che ci sta dietro è un po' diversa forse cos'è che cercate di fare con questa iniziativa noi cerchiamo fondamentalmente di promuovere il territorio e tutti quelli che sono i valori aggiunti dell'abitare in un posto come Chiusi della Verna quindi dall'ambiente alle quindi i posti le relazioni perché comunque la Valle Santa in particolare è una comunità territoriale diffusa anche se poi al suo interno è nata appunto l'idea di un ecovillaggio i prodotti i prodotti locali che nascono dalla volontà di persone che sono arrivate da fuori di riprendere i mestieri di un tempo e quindi un ritorno non solo ad una vita diciamo più semplice ma anche ad un artigianato e anche prodotti biologici per quello che riguarda l'ambito alimentare abbiamo parlato della Verna del santuario abbiamo parlato della bellissima natura di questi territori ma nel comune di Chiusi della Verna siamo al Corsalone questa è la frazione principale anche il secondo polo possiamo dire industriale artigianale di tutto il casentino allora andiamo a vedere un'altra delle eccellenze che sono qui presenti in questa volta parliamo di impresa la nostra è un'azienda che lavora il cavo cavo elettrico di varie dimensioni cavo di potenza e cavo di segnale ovviamente a seconda della tipologia del cavo ci sono varie attrezzature che vengono utilizzate questo lavoro viene utilizzato da importanti aziende in altri settori quindi quello che voi fornire il settore di riferimento sono settori dell'industria molto importanti il primo ed è quello diciamo così il settore per noi più importante è le energie rinnovabili siamo nel 2009 la nostra azienda è riuscita a ripartire con questo settore dopo un periodo di crisi che è durato circa due anni e nell'arco dei 6-7 anni attraverso l'implementazione anche di altri settori e di altri settori industriali diciamo così siamo riusciti a programmare anche una crescita abbastanza proporzionata della nostra azienda innanzitutto bonificando quella che era l'azienda originaria naturalmente con il tetto in Ethernet e quindi con Amianto che è stato completamente eliminato sostituito da altre soluzioni e da altre tecnologie abbiamo utilizzato nel frattempo abbiamo approfittato per impiantare un impianto fotovoltaico che nell'arco di due anni ha creato circa 100 megawatt di potenza e ci ha permesso chiaramente di ammortizzare certi costi che abbiamo dovuto sostenere poi nell'edificare questa nuova realtà questa nuova realtà chiaramente essendo in un ambiente diciamo così del paese abbastanza integrato abbiamo deciso di lasciare un po' il vecchio concetto di edificio industriale rivolgendosi a delle aziende con le quali abbiamo ideato una tipologia di edificio che fosse abbastanza parte integrante del paese che ci ospita questa azienda ha 30 anni di vita tra l'altro una bella storia anche familiare non solo una storia imprenditoriale ci sta qui dietro si è trovata di fronte a una crisi di crescita chiamiamola così ha dovuto espandere i propri spazi è stato possibile grazie al contributo da parte dell'amministrazione comunale direi proprio di sì l'amministrazione comunale è stata determinante perché ci ha permesso in poco tempo di realizzare la struttura che poi ovviamente si è resa necessaria per l'accoglimento di tutta la materia prima che nel frattempo ovviamente abbiamo dovuto comprare con sempre più frequenza a questo proposito devo dire e devo soffermarmi su un aspetto importante che è quello che tutto ciò che abbiamo edificato lo abbiamo realizzato praticamente a chilometri zero nel senso che le aziende che hanno lavorato che hanno partecipato a questa costruzione all'edificio sono tutte aziende che diciamo così operano nell'arco di 10 chilometri e in particolare l'edificio per esempio è stato realizzato con un'azienda che opera proprio qui a Corsalone quindi direi che tutto questo va sottolineato perché ci sono altre realtà importanti secondo me da non sottovalutare nel territorio insomma quando avete deciso di ampliare i vostri spazi avete seguito anche dei criteri di sostenibilità per quello che riguarda appunto pannelli fotovoltaici l'utilizzo del legno sì naturalmente tutto questo è partito con un progetto pertanto come dicevo prima alla bonifica dell'amianto è seguito un impianto da circa 37 kilowatt che ci ha permesso nell'arco di due anni come vi accennavo alla produzione di oltre 100 megawatt che per noi è significato il 50% del nostro assorbimento nei due anni chiaramente il maggior costo dell'edificio è stato in parte anche ammortizzato dal tipo di costruzione che abbiamo deciso di mettere in atto poiché abbiamo preventivato che nell'arco di 10 anni il maggior costo sarà ammortizzato dai risparmi che tutto questo comporterà in termini di corrente elettrica avendo abbandonato tutto ciò che riguarda correnti energie di natura fossile come gas e gasolio per esempio che nella nostra azienda non esiste più stiamo utilizzando delle pompe di calore e tramite queste riusciamo a fare freddo d'estate e caldo in inverno con dei costi che sono molto attenuati rispetto a quello che sarebbe stato utilizzando energie fossili tradizionali quindi un impegno importante nei confronti del territorio lo accennavamo prima questa è una realtà familiare che rappresenta anche una storia di una famiglia quanti sono e di tante famiglie di quelle che lavorano qui come dipendenti quanti sono i lavoratori qual è anche il giro d'affari che riguarda la vostra azienda ma la nostra azienda complessivamente ha un volume d'affari di circa 5 milioni di euro i dipendenti sono circa 21 nell'intero gruppo sono circa 40 insomma quindi abbiamo uno stabilimento anche a Benevento con altri 40 dipendenti che però questa è un'altra storia insomma abbiamo visto un intervento diciamo a tempo di record da parte dell'amministrazione per permettere a questa azienda di bonificare la propria sede e di potersi anche ampliare quindi poter ampliare anche il proprio business otto mesi e basta ci hai voluto per riuscire ad arrivare in fondo grazie appunto al vostro impegno sì diciamo era un momento abbastanza particolare per l'azienda proprio perché aveva delle richieste importanti di commesse di lavoro e noi come amministrazione abbiamo cercato di fare le cose più veloci possibili grazie all'amministrazione ma voglio dire anche grazie alla regione perché poi c'è tutta diciamo una prassi che per quanto riguarda una variante tipo quella deve essere approvata anche dalla regione ecco sicché abbiamo avuto anche il supporto sia della regione sia della provincia e in tempi diciamo abbastanza diciamo veloci abbiamo messo in condizione l'azienda di poter fare quello che gli serviva a fare ecco e oggi come abbiamo visto anche lì ecco essendo anche all'interno del paese diciamo anche come immagine credo che abbia migliorato un po' tutto quella realtà in quella zona del paese questo è solo uno degli interventi che sono stati realizzati al Corsalone l'impianto di illuminazione il campo sportivo il parcheggio il nuovo incrocio voi avete anche un progetto importante qui quello di realizzare una nuova pista di go-kart sì questo grazie all'amico anche Paolo Volpi che in questi mesi abbiamo insieme avuto diversi passaggi confronti su questa cosa noi abbiamo messo a disposizione una parte di terreno che abbiamo qui accanto che è diciamo non utilizzato oggi e su questo anche perché credo che si possa dare una risposta importante anche a livello sportivo ma anche istruttivo per le scuole soprattutto per i nostri ragazzi credo che sarà una realtà importante non solo per il Corsalone non solo per il Comunicola Verna ma per il tutto sicuramente per tutto il Casentino e questo sarà un impegno che nei prossimi mesi ci vedrà gomito a gomito insieme a Paolo e l'amministrazione a portare avanti questo progetto ecco perché io credo che come tutte le cose ecco se uno ci mette passione e impegno si può arrivare anche a fare delle cose che magari a volte si può pensare anche che non siano non siano raggiungibili ecco come veniva detto noi in questi in questi ultimi mesi abbiamo fatto degli interventi importanti sul Corsalone perché erano interventi necessari ecco come la sicurezza stradale nella zona di Pagliarese davanti alla Unio e come era importante anche qui davanti alla scuola soprattutto che abbiamo un presso scolastico che tutti i giorni ci gira sui 130 ragazzi ecco io credo che questo ecco è la scommessa della nostra amministrazione ma come qui la stessa cosa stiamo facendo cose importanti ai chiusi come stiamo facendo cose importanti anche in Valle Santa ecco questo è un po' uno dei comuni come si sa uno dei comuni più grandi del Casentino a livello di territorio perché siamo 102 km quadrati e questo con tante situazioni anche come si è detto prima se partite al Corsalone c'era il sole si arrivò a chiusi della verna c'era il freddo e la pioggia ecco succede anche l'inverno si arriva a Dama e si trova già la neve e serve lo spalaneve per arrivare su ecco questa è un po' la caratteristica del nostro territorio ecco però diciamo grazie all'amministrazione alla giunta a tutti i consiglieri si riesce comunque ancora ad oggi a dare tutti i servizi anche in queste situazioni un pochino più disagiate però ecco una cosa che noi non con le chiacchiere ma con fatti abbiamo dimostrato che veramente crediamo alla montagna ecco quando si è detto prima la struttura che abbiamo fatto in Valle Santa nel paese di Corezzo come abbiamo la scuola in Valle Santa sempre nel paese di Corezzo le stesse cose che cerchiamo di salvaguardare sia anche nel paese di chiusi ecco io credo che quando si parla di montagna bisogna parlare poi con fatti non solo andare d'estate solo per prendere il fresco che poi bisogna pensare che chi ci vive tutto l'anno ha bisogno a queste esigenze che l'amministrazione cerca in tutti i modi di far fronte ecco uno di questi interventi riguarderà proprio il centro di chiusi della Verna mentre noi giravamo insomma c'è stato anche questo briefing con i tecnici della provincia che a brevissimo proprio permetteranno di fare un restyling profondo a tutta la via principale di chiusi no è già fatto ecco questo quel giorno che noi abbiamo fatto il giro io avevo siamo tornati anche indietro dalla strada della Valle Santa perché mi telefonò la ditta per incontrarsi e se riusciò anche un po' il programma perché quella cosa lì come avevo detto non potevo perdere quella quell'incontro ecco da da quel giorno lì ad oggi i lavori sono stati fatti e già finiti già messi diciamo a punto io credo a tempo di record e anche lì diciamo un po' come si è fatto prima con l'azienda che abbiamo presentato ecco quando c'è da correre come state capendo immagino insomma Gian Paolo Tellini il sindaco di Chiusi della Verna un uomo del fare neanche il tempo di parlare di un progetto che già è stato realizzato allora vediamo cosa si prefiggono di realizzare in così pochissimo tempo mantenendo questo stile qui appunto al Corsalone per quello che riguarda i Gocard noi speriamo che questa velocità possa essere applicata anche in questo progetto qui questo progetto si tratta di costituire di costruire una pista di carte di mini carte che saranno esclusivamente elettrici questo bisogna sottolinearlo perché altrimenti la gente può pensare chissà a quali difficoltà di rumore si possa andare incontro mentre invece ecco utilizzando questi tipi di mezzi questo problema non esiste più questa pista è una pista che sarà della lunghezza di circa 300 metri per una larghezza media di minimo 5 metri e quindi occuperà gran parte dello spazio tutto lo spazio che il Comune ci ha messo a disposizione e direi che in questo caso abbiamo fatto abbastanza la sverta perché abbiamo parlato a fine anno abbiamo presentato il progetto abbiamo avuto già la delibera del Consiglio Comunale per utilizzare questo terreno ci manca soltanto da presentare il progetto esecutivo che ci stiamo già lavorando e quindi potremo iniziare i lavori finalmente questa è una pista che dovrà essere adebita soprattutto alle scuole ai bambini delle scuole perché sono mini carte quindi dovrà essere utilizzata per in principal modo per fare scuola didattica sul mondo dei motori però soprattutto per quanto riguarda la sicurezza stradale e l'educazione stradale inoltre questa pista potrà essere utilizzata anche per altri per altri scopi dai bambini con le biciclette oppure per iniziative del Comune che riterrà opportuno fare in quello spazio che diventerà uno spazio organizzato uno spazio messo proprio appunto come dovrebbe essere nel nostro progetto quindi mentre invece adesso è un campo in conto diventerà uno spazio utilizzabile per tante altre iniziative oltre che la pista di carte però il nostro progetto è proprio quello di indirizzare alla sicurezza stradale i bambini delle scuole però potrebbe essere utilizzata anche per scuola guida per scuola di guida per quello che riguarda anche i ragazzi di 14 anni quelli che devono prendere la patente per il motorino ecco può essere utilizzata per tante cose per cui è un progetto ambizioso per conto nostro per come Scuderia Truria chiaramente ci troviamo di fronte a un compito molto molto grande però confidiamo sia nell'aiuto da parte del comune come ci ha dato fino ad ora e nell'aiuto anche di sponsor che possono aiutarci nei costi per la realizzazione di questo impianto per cercare di farlo quanto prima e mettere a disposizione della popolazione vostro obiettivo più o meno quale vi piacerebbe raggiungere per la sua conclusione e realizzazione noi speriamo che entro quest'anno si possa già fare qualche prova magari contiamo di realizzare intanto il nastro d'asfalto la recensione e l'insonorizzazione intorno anche se non ce n'è bisogno però nel nostro progetto è previsto anche appunto delle banchine di terrapieno proprio per contenere eventuali rumori poi chiaramente questo spazio avrà bisogno anche di infrastrutture però questa sarà una fase successiva perché chiaramente i finanziamenti non sono così così alla portata di mano come si può spensare ma dovremmo cercare in tutti i modi interessando le varie amministrazioni i vari enti il CONI la regione per cercare di trovare quei contributi necessari per farla funzionare e per far continuare a funzionare in questa ottica qui proprio l'ottica principale rimane la sicurezza stradale l'educazione stradale e la scuola guida e le guidare sicuro anche perché oggi lo vediamo purtroppo nei giovani molti prendono la patente subito e vanno nelle strade purtroppo succedono tanti incidenti noi cerchiamo con queste iniziative di dare delle informazioni delle indicazioni delle condizioni più reali per cercare di affrontare il mondo in maniera responsabile del mondo stradale tra l'altro per fare queste cose qui ci vogliono anche degli istruttori ci vogliono delle persone che possono essere in grado di poter dare questo tipo di aiuto noi all'interno della scuderia ma anche all'interno della nostra provincia ci sono persone che ci sono vicine che già utilizzano la loro esperienza per fare appunto sicurezza stradale quindi credo che sia importante puntare anche su queste su queste risorse che abbiamo su questo tipo di iniziative che sicuramente porteranno anche lavoro competenze e flussi turistici in questo territorio l'abbiamo accennato molto prima della Valle Santa una zona veramente bellissima tanti progetti che sono al suo interno da appunto l'ecovillaggio alle case sull'albero ma noi adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria subito dopo vedremo dei contributi che riguardano proprio la Valle Santa Noi torniamo in diretta dalla scuola municipale del Corsalone nel comune di Chiusi della Verna lo anticipavamo poco prima della pubblicità adesso andremo in Valle Santa a scoprire l'ecomuseo che è stato realizzato lì e come la comunità di Corezzo cerca appunto di farla rimanere viva e come la Y acu a a a Grazie a tutti. L'ecomuseo è un'associazione nata nel 2008, appunto dietro un'attività plurienale della scuola che esisteva già prima, che i bambini facevano e tuttora fanno delle ricerche sulle questioni che riguardano il territorio. Mi ha colpito particolarmente il piacere, la gioia degli anziani della valle a mettersi in contatto con i bambini, perché durante questi progetti i bambini dovevano o intervistarli o andare a trovarli e chiedergli dei fatti della tradizione. Comunque c'era un contatto e vedevo veramente come gioivano questi anziani, perché come in tante altre parti dell'Apenino, anche qui tanta gente è andata via e tanti anziani vivono da soli, perché si rotte un po' la catena generazionale, magari i figlioli ce l'hanno lontani, anche i nipoti e quindi hanno doppiamente piacere di stare un pochino, almeno un pochino in contatto con i bambini e questo è stato un motivo forte per noi, per andare avanti anche con un'associazione. Ecco, lei è originario della Germania, ha scelto di venire ad abitare qua, come lei tantissime persone dal nord Europa hanno deciso di scegliere un posto così marginale, periferico e hanno dato la possibilità anche di rivivere a questo posto che altrimenti rischierebbe di essersi spopolato. La scuola infatti è aperta grazie anche a questa immigrazione che è avvenuta già almeno da 30 anni a questa parte. Quali sono le motivazioni che a lei ma anche a tante altre persone vi hanno spinto a venire qua? Le motivazioni sono queste qui che vediamo qui intorno perché come me e come tante altre persone dall'estero, dalla Germania e dal nord Europa ma devo dire che ultimamente sono tantissimi italiani dalle grandi città è nata la voglia sicuramente dietro alcuni problemi dell'epoca moderna di stare in città oppure di stare in una società tecnocratica, industrializzata fortemente e la Germania all'epoca molto di più dell'Italia ma è nata anche in altri paesi, in America, in Inghilterra c'è nata questa voglia di tante persone di ritornare a vivere diciamo semplicemente a più stretto contatto con la natura quindi all'epoca si è sentito notizia ci sono queste bellissime zone raggiungibili perché non sono fuori dal mondo andiamo a vedere e per lo più erano anche abbandonate in gran parte perché come sa anche il sindaco, anche la Valle Santa non fa eccezione la fascia centrale dell'Appenino ha subito una forte emigrazione dopo guerra con l'industrializzazione in Valle Santa lo so abbastanza preciso le cifre degli abitanti del dopo guerra che ancora erano più di 2.000-2.500 abitanti siamo scesi a 250 abitanti quindi un 90% delle persone se n'è andato questo ha creato la possibilità per chi si interessava di tornare in montagna, in campagna di voler provare di vivere con la natura e dentro la natura ha creato questa occasione ecco questo progetto dell'ecovillaggio per voi cosa rappresenta? anche in relazione appunto al rapporto con la popolazione locale come è cambiato nel corso degli anni magari da quando lei è arrivato ad oggi? il progetto dell'ecovillaggio è nato dietro una stretta necessità di avere delle abitazioni disponibili per chi vuole immigrare in questa valle perché stranamente come avevo detto prima è una valle abbandonata al 90% ma come vediamo a Corezzo in tutti gli altri paesi le case chi viveva prima se la tiene magari per i figlioli per i nipoti per i amici quindi nonostante che abbiamo tantissime case vuote o chiuse per la maggior parte dell'anno a trovare una casa in affitto o in vendita è abbastanza difficile qui se non ci fosse più stata la scuola nessuno crede con i bambini nessuno delle famiglie avrebbe preso questa scelta di stabilirsi qui e di volersi costruire una vita qui è un tassello importantissimo e anche questo grazie all'aiuto del comune e a tanti altri enti siamo finora riusciti a salvarla eravamo spesso sul filo del rasoio ma se chiude la scuola cosa succede? anche tantissime famiglie avrebbero preso le valigie se ne sarebbero andate quindi solo per il progetto del villaggio con l'attesa di potersi costruire casa eccetera nei ultimi 3 o 4 anni sono arrivati altri 25 persone le ho contate la settimana fa fa conto su 250 abitanti è un bel incremento di cui 13-14 bambini abbiamo visto questa bella storia di immigrazione spesso se ne parla con toni allarmistici con toni preoccupanti qui invece l'immigrazione è stata la salvezza per questi territori che altrimenti già adesso lo rischiano ma se no avrebbero rischiato ancora di più di spopolarsi la scuola sicuramente la scuola sarebbe chiusa adesso questo progetto quello dell'ecovillaggio promette una nuova prospettiva per questi territori Sebastian lo sta seguendo da vicino che cosa rappresenta per voi già qualcosa aveva accennato prima ma insomma cosa rappresenta per voi e anche per le persone che stanno dietro a questa iniziativa ci sto pensando tanto ultimamente perché siamo a pochi mesi dall'apertura del cantiere e le difficoltà sono sempre maggiori l'impegno sta diventando concreto quindi non passa giorno che io non mi faccia questa domanda per trovare la risposta un tempo la comunità e l'ecovillaggio era la normalità era legato al dover vivere insieme per non poter fare da soli quindi condividere le risorse che c'erano per farcela poi c'è stata una fase in cui è diventato un sogno e oggi sempre più stiamo andando verso l'utopia poi però quando guardo i miei figli che giocano fuori quando lavoro all'aria aperta insieme alle persone dei paesi vicini quando condividiamo frequenti momenti sociali penso che è un tentativo un tentativo forte di affermare che cambiare è possibile quindi è possibile invertire la tendenza rispetto alla parte relazionale quindi riscoprire il valore delle relazioni rispetto alla parte economica quindi tornare a forme di baratto di scambio banca del tempo è possibile ritornare a cooperare invece che competere e a lavorare insieme invece che essere individualisti quindi è un tentativo di affermare tutto questo di realizzarlo concretamente per vivere bene in un posto come la Valle Santa e in realtà in qualche modo di ripeterlo al mondo cioè noi non vogliamo creare un'isola felice all'interno di un territorio che già ha un sacco di elementi per dare una vita felice a chi ci abita vogliamo essere un ripetitore di buone pratiche quindi sia dal punto di vista economico ambientale sociale non vogliamo rinchiuderci tra i monti anche perché sappiamo che potremo insegnare ai nostri figli ad amare quei posti e un domani a tornare forse fare la scelta che abbiamo fatto noi di andarci a vivere solamente se ci adopereremo per offrirgli più opportunità possibile altrimenti alla prima occasione andranno in città per trovare tutto quello che lì non c'è perché comunque non possiamo negare che vivere tra quei monti per tanti aspetti è difficile quindi l'ecovillaggio nasce sicuramente per rispondere a una finalità abitativa come diceva Hans perché quello c'è però nel tempo in cui Hans soprattutto e un'altra famiglia l'hanno tenuto in vita permettendo a tanti come me di arrivare conoscere il luogo conoscere la valle ambientarsi poi decidere di entrare si è arricchito perché nel tempo in cui il progetto è maturato la stessa valle è cambiata in realtà per cui il progetto è un'espressione della valle e cambia forma con essa ma concretamente questo ecovillaggio come sarà strutturato vi costruirete da soli le case con tecniche di autocostruzione saranno edifici in bioedilizia saranno case sparse una palazzina allora il progetto si è previsto di realizzarlo in bioedilizia c'è la possibilità di costruire otto case singole più 300 metri quadri di spazi comuni ad oggi sono cinque le famiglie che hanno aderito al progetto che in realtà ha il contributo regionale per l'autocostruzione per cui sicuramente una buona parte la faremo noi la faremo noi in collaborazione con imprese più possibili legate al territorio la faremo noi tramite l'organizzazione di campi di lavoro e di campi scuola perché sono pratiche sempre più diffuse lo faremo grazie anche al sostegno della Riva e la rete italiana per i villaggi ecologici di cui fa parte la cooperativa che raccoglie tutte le realtà che come la nostra stanno cercando di mettere in piedi progetti come questo Sindaco cosa rappresenta per voi questa iniziativa forse all'inizio c'era anche un po' di diffidenza nei confronti di queste persone che venivano dal nord Europa che avevano delle abitudini forse un po' diverse dalla gente che abitava nel posto diciamo che io quando sono arrivato a fare amministratore del comune loro c'erano già sicché non è che diciamo io credo che è come se ben capito è una risorsa per il territorio una risorsa anche perché si sono ben integrati già con i cittadini che ci abitavano da sempre e come è stato detto ecco anche il fatto di oggi di portare avanti un progetto importante come quello dell'ecovillaggio in cui diciamo in questi ultimi anni è stato sicuramente faticoso arrivare a pianificare il tutto perché non è una cosa semplice anche a livello urbanistico ecco io cosa ecco ammiro in loro sicuramente diciamo su questo progetto la costanza l'impegno il crederci ecco oggi siamo arrivati diciamo ormai a pochi mesi da dare via a questo cantiere ecco non passa settimana come che non ci si confronta una volta per una questione una volta per l'altra ma come sono tutti le i qualsiasi progetto che andiamo a iniziare ecco però questo essendo una cosa nuova e diciamo un ringraziamento particolare va fatto anche all'assessore regionale del nostro territorio che anche su questa cosa ha dato una mano perché poi arrivassero queste risorse Vincenzo Ceccarelli che arrivassero queste risorse nel nostro territorio nel comune di Sua Verna e specificamente diciamo all'ecovillaggio della Valle Santa ecco io credo che questo dobbiamo tutti cercare ognuno per quello che gli compete di arrivare fino in fondo a questa importante opera che diciamo darà domani una risposta abitativa a questa gente noi adesso andiamo a vedere un'altra realtà presente all'interno della Valle Santa abbiamo visto l'esperienza di Hans una persona tedesca abbiamo visto l'esperienza di Sebastian che da Firenze viene qua queste persone dalla Romagna hanno fondato una realtà che tra l'altro è vicinissima dove opera Sebastian il doccione un agriturismo un nuova era un nome diciamo che già vi fa immaginare molto allora vediamo insieme il prossimo contributo cercavamo un terreno incontaminato in un luogo che potesse offrirci acqua aria pace silenzio ma avesse delle solide radici è una solida storia siamo arrivati sbarcati qui alla Verna e ci siamo trovati in questa realtà di questo bellissimo terreno sono 74 ettari dai 900 metri ai 1200 confini con la Romagna a Verghereto ci siamo girati attorno abbiamo visto che ci offriva tante sorgenti di acqua contaminata aria purissima silenzio e quello che abbiamo proprio percepito era di convivere con questa realtà e così è nata la nostra azienda agricola la nostra azienda agricola poi come si è strutturata si è strutturata che da un lato ci attivavamo a produrre le nostre materie prime che erano gli ortaggi i frutti e anche ad apprezzare quello che era qui nel luogo cioè i frutteti i meli i peri i susini tutte cose antiche culture antiche dall'altro quello che ci offriva abbiamo voluto trasformarlo in un'altra realtà che arrivasse un po' tutti i cittadini e tutte le persone e quindi cosa abbiamo cercato di fare di prendere una pera che raccoglievamo dall'arbre e trasformarla in una confettura uno zucchino che raccoglievamo dall'orto trasformarlo in un sottoglio e qui c'è un pochino tutta la nostra storia all'interno dell'azienda agricola noi cosa abbiamo inserito anche l'agriturismo è un agriturismo piccolino di nicchia molto carino vedete anche voi tutto abbiamo sfruttato il legno abbiamo sfruttato tutte le materie del luogo perché vogliamo rimanere in armonia con questo luogo e quindi abbiamo chiesto questo permesso molto delicato di anche noi poterci esprimere con la realtà del luogo usando e sfruttando il legno questo agriturismo ha un piccolo ristorantino che è il rifugio noi lo chiamiamo la nostra nicchia dove noi amerevolmente facciamo la nostra cucina che è una cucina molto semplice molto essenziale vi posso descrivere un po' formaggi di nicchia gli affettati toscani questi sono i nostri sottoli che poi voi li vedete così e spero abbiate il piacere di degustarli ma poi escono ed entrano anche in queste confetture perché noi qui all'interno abbiamo anche il laboratorio per poterci esprimere all'esterno vendendo le confetture le tagliatelle dove noi le facciamo con le nostre uova perché abbiamo le nostre galline e poi ci esprimiamo con i nostri dolci la nostra creatività rimanendo nel contesto di quello che ci offre il nostro orto ed è la tipicità toscana sì prettamente toscana qui è pieno di castagni voi vorrete fare una casa sull'albero in un castagno che se non sbaglio ha più di 500 anni sì noi qui siamo molto fortunati tra l'altro il regolamento edilizio è stato cambiato apposta due mesi fa noi non vediamo a breve speriamo di fare questa inaugurazione vi chiameremo il nostro sindaco avrà il primo pernottamento perché guardi è un progetto che noi l'abbiamo nel cuore e lo stiamo concretizzando perché vi spiego qui in realtà si chiama Ronco perché tanti tanti anni fa questa zona qui era piena di castagni poi l'industria del tannino così hanno tagliato tutti i castagni e noi qui abbiamo dei titani che sono castagni giganti uno fra l'altro lo abbiamo chiamato Golia perché è un castagno che ha 600 anni e si abbraccia con 8 persone se ve l'abbraccio di questa pianta quindi è un monumento è una delle piante più belle d'Europa poi abbiamo altri castagni che hanno qualche anno in meno ma si parla sempre di 400 o 500 castagni più giovani insomma più giovani e tu ti ci perde a osservarle perché poi sono le case degli scoiattoli dei ghiri cioè è una cosa troppo bella e un castagno il più fortunato è stato scelto per una casina per appunto una casina sull'albero sul nostro castagno magico e spero che a breve possiamo anche farvela vedere visitare adesso siete nel rifugio ristorante spero che fra quanto sindaco un anno sì penso che i tempi siano così più o meno che voi siate qua per condividere e prendere prendiamo l'impegno per il prossimo anno allora sindaco fra un anno vedremo le case sull'albero due mesi fa è stato modificato il regolamento urbanistico a breve arriverà la pista di go-kart in un paio di settimane ha riqualificato la via centrale di Chiusi della Verna insomma lei è un uomo del fare proprio su questo non c'è alcun dubbio le chiederei che cosa state facendo su una tematica di attualità che riguarda Banca Etruria visto che molti dei vostri cittadini sono stati prima si parlava di Banca del Tempo ma purtroppo molti dei vostri cittadini sono rimasti colpiti dalla crisi che ha riguardato appunto questo istituto di credito proprio con anche delle novità degli ultimi giorni insomma come vi state comportando in merito a questa questione noi avevamo messo in quelle settimane a disposizione come amministrazione comunale un legale all'interno del palazzo comunale in cui i cittadini che era diciamo aveva bisogno di avere e di fare delle cose inerente a quella problematica sono state fatti non a caso domani sera abbiamo organizzato un incontro pubblico un consiglio nella sala del consiglio comunale a chiusi della Verna proprio con l'avvocato che aveva seguito quelle pratiche in cui domani sera dovrà illustrare il nuovo decreto fatto dal governo proprio per rimborsare chi è stato diciamo colpito da questa situazione ecco poi vediamo da domani sera in poi quale saranno i sviluppi praticamente quasi tutte le famiglie le famiglie di chiusi della Verna insomma perché la filiale che era presente in paese era proprio di Banca Etruri ma io questo non sta a me dirlo tutti perché credo diciamo ecco la banca era l'unica banca che c'era nel paese tra l'altro c'è ancora oggi è l'unica banca dove i cittadini di chiusi della Verna si servivano questo poi quanti sono io poi non è che voglio entrare nei particolari di questa cosa qua noi adesso andiamo da Marco Alfonsi che ha delle domande per qualcuno dei nostri ospiti che ci sono giunte da casa te Marco sì Luca abbiamo una domanda da parte del pubblico da casa la signora Roberta chiede qual è la posizione del sindaco Tellini in merito alla questione ormai tanto dibattuta della fusione dei comuni la nostra posizione è molto chiara noi il 10 di gennaio di quest'anno abbiamo deliberato una possibile fusione andando a un referendum tra chiusi della Verna Chitignano e Castelfo Cognano ecco io credo che noi diciamo per quanto riguarda come amministrazione ma anche ripeto Chitignano l'amministrazione Chitignano e Castelfo Cognano di poter dare la possibilità la parola ai cittadini di esprimersi se questo diciamo poi sarà positivo e dovesse essere un'espressione di tutti i tre comuni a diciamo la volontà da parte di realizzare un comune noi diciamo su questa cosa come abbiamo deliberato e se cittadini vorranno saremo e saremo a disposizione per poi diciamo fare quello che andrà fatto perché si vada incontro di fidiamente a questa cosa questa è la posizione dei consigli comunali poi c'è un comitato che sta raccogliendo delle firme che proporrebbe invece una fusione che riguarda riguarderebbe anche Bibbiena qual è e anche caldeggiata dall'amministrazione di Bibbiena insomma come come valuta questa opzione questa possibilità ma diciamo per quanto riguarda il comitato mi sembra una cosa abbastanza strana che sia stato fatto un comitato che riguarderebbe la fusione di questi tre comuni e guarda caso che in questo comitato c'è solo quattro che ne fanno parte sono del comune di Solaverna non c'è nessuno di Bibbiena non c'è nessuno di Ortignano Raggiolo sicché questo è già una cosa abbastanza strana ma noi cosa diciamo io credo che io non ho avuto nessuno confronto con il sindaco di Bibbiena ma a me non ha mai espresso la sua volontà a fare una fusione col comune di Giussi della Verna io credo che anche per sposarsi bisogna essere in due se d'accordo non è che ci può andare uno solo all'artare poi alla fine il matrimonio non si fa ecco io credo che anche sulle fusioni è quello che sostengo io come l'ho sostenuto quando ho avuto tre volte l'occasione di intervenire anche presso la commissione del consiglio regionale io sono per diciamo per aprire questo tipo di di confronto ma soprattutto tra comuni paritetici portai l'esempio portai l'esempio in consiglio regionale che se io faccio una società con Berlusconi non comando io ma comando sicuramente Berlusconi perché è uno dei più ricchi del mondo ecco io credo che se devo andare a fare e portare il mio comune a fare una fusione un comune poco più di 2.000 abitanti con un comune che ha 12.500 abitanti io su questo su questo sarò diciamo fino all'ultimo secondo a combattere perché questo non avvenga poi se dovesse avvenire saranno i cittadini a decidere noi abbiamo dato un'alternativa ai cittadini e questa di questi tre comuni che ho detto prima che riguarda Chiusi, Vitegnano e Castel San Nicolò ecco io credo Castel Focognano io credo che su questo su questo la gente comincia a prenderne a prenderne diciamo anche atto che la cosa si 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 diciamo è più a misura nostra anche perché come si sa bene normalmente poi quando più le cose diventano grandi e più si accentrano sicuramente nel realtà diciamo se domani vai a fare un comune come Bibbiena sicuramente il Corzalone o la Valle Santa o Chiusi rispetto a Soci o rispetto a Bibbiena credo che avrebbero delle cose difficoltà a essere considerati le chiedo un'opinione molto breve su un argomento un po' attiguo ovvero il dibattito che oramai va avanti da un anno sull'unione dei comuni montani del Casentino lei è stato presidente anche fino a pochi mesi fa grandi polemiche al suo interno all'interno dell'Unione qual è il futuro che attende appunto l'Unione adesso con la nuova presidenza dopo anche la sentenza del Tar che aveva reintegrato Paolo Agostini ma diciamo cos'è l'Unione dei Comuni ma io vorrei partire un attimino un pochino se ce la fa brevemente non è facile brevemente anche perché è una storia abbastanza complicata che è nata diciamo il 31 di luglio 2015 quando ci fu quella notte strana ecco in cui Paolo Agostini allora presidente si chiuse all'interno dell'Unione dentro la sede tutto chiuso la mattina io ero vicepresidente fui chiamato di andare su ma io mi disse il presidente si è chiuso dentro è tutto chiuso io pensavo che scherzassero non ci credevo nemmeno poi alla fine capì che non erano scherzo ma è una cosa vera infatti quando arrivare a su c'era voglio dire io ho definita così in miniatura diciamo tipo un piccolo colpo di Stato in miniatura allora da lì quella mattina si fu fatta la giunta e io ero vicepresidente mi fu chiesto dall'altri sindaci di fare di prendere diciamo l'impegno di fare il presidente così è stato in quella giunta il segretario non non fece diciamo tutto quello che doveva essere fatto nel modo diciamo come prevede la 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 lo statuto che lui si si dimise però doveva fargliene mettere per scritto questo non avvenne dopodiché lui fece ricorso al TAR il TAR ha dato ragione a noi su tutto tranne che sulla procedura infatti gli atti non è che sono stati diciamo messi in discussione sulla procedura infatti il 10 di il 3 il 10 di di marzo l'Agostini fu rinserito a fare il presidente noi abbiamo in quell'occasione lì presentato una mozione di sfiducia che dopo un mese è stata discussa è stato sfiduciato e io ero il presidente la Valentina Calbi che era vicepresidente in quei giorni si è parlato sempre comunque tra di noi all'interno della giunta di dare una continuità al lavoro che avevamo fatto in quei mesi e io proposi la vicepresidente come presidente anche perché credo anche per opportunità politica serviva anche dare diciamo un segnale diverso infatti abbiamo dato credo soprattutto è una donna sicché già per la prima volta che all'Unione dei Comuni prima ex comunità montana che una donna è diventata presidente e credo che abbiamo fatto un buon lavoro diciamo anche perché diciamo in questo modo qui abbiamo evitato anche di dire ecco e magari di ridare continuità a quei mesi che come ho detto io ai sindaci l'ultimo l'ultimo giorno l'ultimo giorno che prima di fare presidente della Calbi io più che un presidente sono stato un commissario lì perché infatti avevo tutte le deleghe e io ho gestito diciamo in prima persona quella situazione comunque di una cosa dobbiamo andare diciamo orgogliosi che siamo riusciti a riportare le cose nella giusta direzione ecco non abbiamo fatto come ho detto tante volte io come Schettino che saltò dalla nave e fece affogare tutti noi siamo rimasti lì e abbiamo portato allora lei adesso vicepresidente ha anche una delega importante quella alla forestazione andiamo a vedere l'ultimo contributo video di questa serata è dedicata proprio a uno dei progetti che l'Unione dei Comuni sta portando avanti e legata al mondo del tartufo a E' un terreno molto buono per la produzione di questo tartufo e diciamo che il nostro territorio è molto portato alla produzione di questo e noi con i nostri cani andiamo alla ricerca di questo prodotto che troviamo nel sottosuolo. Tartufo bianco, tartufo nero, che tipologia si può trovare in particolar modo? Dalle nostre parti troviamo il tartufo nero estivo e il tartufo bianchetto, detto anche marzuolo. Questo è il periodo del tartufo bianchetto del marzuolo. Voi avete anche dei cani, per quello che riguarda i cani non è facile anche l'addestramento per trovare appunto i tartufi, spesso ci sono anche gelosie e incidenti non voluti legati appunto ai cani. Esatto, poi è un lavoro molto complicato perché fin da piccoli devono essere, dobbiamo ecco educarli in maniera molto ferrea e abituarli a questo tipo di lavoro. Spesso appunto ci sono anche avvelenamenti, situazioni di questo tipo? Sì, 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 ci troviamo in qualche caso anche, purtroppo ci sono delle persone che lo fanno per business e quindi molte volte nascono gelosie tra i vari cercatori. Ecco, perché il tartufo è molto pregiato, ha un prezzo anche molto alto e quindi sono queste cose. Lei ha una palettina, ora io non so tecnicamente come si chiama. Sì, questo qui è il vanghetto da tartufi e è un vanghetto affilato dalle parti e con una punta che permette di entrare dentro al terreno e di poter, quando il cane scava, di poter togliere il tartufo senza che magari il cane con le zampe lo possa sciupare. Ma c'è anche, ci sono anche delle manifestazioni legate al tartufo che accolgono anche gente da altri territori. A Chiusi della Verna c'è la sagra del tartufo che quest'anno è arrivata, ora non mi ricordo bene se è alla 25esima edizione, quindi è una sagra che è nata già da molti anni e porta all'interno del nostro territorio anche un certo numero di persone a partecipare a questa sagra. Grazie. 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 Grazie a tutti. Quarto di secolo, un po' più di festeggiamenti insomma. Niente, la Sagra del Tartufo che è basata sul tartufo nero, lo scorzone del tartufo estivo, viene fatta dietro, lì alla sede della Proloco, dietro il Comune, il Parco dei Macchini, nel periodo dal 13 al 17 di agosto, quindi sono i stand gastronomici a base di tartufo, il nostro fiore all'occhiello oltre il tartufo è la bistecca, la tagliata, la chianina, quindi abbiamo un notevole gruppo di persone che vengono, l'anno scorso siamo passati sui 6.000 persone che sono venute alla Sagra, quindi come festa è ben rinomata nel paese. Oltre a quello, l'anno scorso abbiamo fatto anche una gara di cani da tartufo, che quest'anno cerchiamo di rifare anche quest'anno, però purtroppo quello che la organizzava dell'associazione Tartufai non sta tanto bene di salute, quindi non sappiamo se verrà fatta oppure no, però se possiamo farla la facciamo ben volentieri perché ricavata l'anno scorso è stato devoluto tutto all'ospedale Maia di Firenze e quest'anno se si potesse riorganizzare ancora, che è una bella iniziativa averla anche lì nel contesto della Sagra, cerchiamo di rinserire anche questa gara da tartufi. Grazie allora al sindaco Gian Paolo Tellini, grazie a Sebastian Muscovic, grazie al signor Dante Frappi, grazie anche al signor Paolo Volpi. Questa puntata di un sindaco a bordo dedicata al Comune di Chiusi della Verna si conclude qui, vi ricordo che sabato sera alle 21.25 sarà possibile il reportage realizzato con il sindaco a bordo del menivan, questa sera ne abbiamo visto solamente alcuni pezzetti, l'appuntamento con le dirette di un sindaco a bordo tornano giovedì prossimo, appunto saremo nuovamente in Casentino al Teatro Parrocchiale di Talla. Grazie per essere stati con noi, per averci seguito fino a questo momento, io vi auguro una buona visione con i nostri programmi, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.